Tutti sanno che esistono i classici Disney. Scommetto che non li avete visti tutti. Ditemi quali non li avete visti, perché qua vi sto per fare un elenco di tutti quelli che esistono, spiegandovi la loro trama senza fare spoiler. La seconda epoca è conosciuta come l'epoca d'argento. Questo perché era esattamente come l'epoca d'oro, quindi eravamo ancora molto in alto, ma era al secondo posto. Perché se nell'epoca d'oro Walt Disney stava facendo i primissimi film d'animazione di tutti i tempi, o Walt Disney stava facendo dei nuovi film d'animazione che sarebbero rimasti nella memoria e nei cuori della gente. Cenerentola! Ella è una giovane bambina che vive con il padre e la madre, estremamente facoltosi, nella loro grande villa. Quando la madre viene a mancare, però, il padre decide di sposare Lady Tremain, che ha due figlie, Anastasia e Genoveffa. Quando il padre muore, Ella resta da sola con Lady Tremain e le sorellastre e passa dall'essere la proprietaria della casa e l'ereditiera all'essere una sguattra a qualsiasi. Lei però accetta questa situazione e decide di fare comunque da sguattra perché lei, dopo tutto, vive di sogni e semplicità. Aspetta solamente un'opportunità per dimostrare che lei vale molto più rispetto alle sue sorellastre e alla matrigna. Alice nel paese delle meraviglie Alice è una bambina di sette anni e mezzo che ama perdersi nei suoi pensieri e la sua vita verrà radicalmente sconvolta quando l'impressione di aver visto un coniglio col panciotto la porterà a inseguire questo coniglio all'interno della sua tana e cadere nel sottomondo. In questo mondo nulla sembra aver senso e verrà messa alla prova la capacità di sopportazione di Alice. Fra bruchi che ti fanno mangiare funghi, conigli che vanno sempre di fretta, gente che vuole tagliare la testa e gatti che svaniscono, Alice dovrà riconoscere in questi elementi se stessa e la sua società e capire esattamente che cosa pensa di ciò che la circonda. Peter Pan Gianni e Michele, figli della famiglia Darling, amano ascoltare i racconti della sorella maggiore, Wendy, che racconta loro delle grandi lotte fra Peter Pan e Capitano Ancino e il bambino che non voleva crescere e l'adulto che non voleva essere stato bambino. Tutti e due terrorizzati dal tempo si sfidano fra di loro in incredibili battaglie sull'isola che non c'è e mentre Wendy racconta queste storie sempre più convinte della loro realtà ecco che trova un'ombra, l'ombra di Peter Pan. Decide così di imprigionare l'ombra di Peter Pan all'interno del suo cassetto aspettando che Peter Pan venga a recuperarla convinta della sua esistenza ed è in questa occasione che lui terrorizzato dal tempo scoprirà che Wendy è costretta a crescere e così deciderà di salvarla dalla crescita portandola con sé sull'isola che non c'è. Lily e il vagabondo Tesoro e Johnny Caro sono due giovani del New England che all'inizio del Novecento decidono di prendere una cagnolina diciamo per riempire la loro vita. Ma quando questa cagnolina ormai è convinta di essere la cosa più preziosa della famiglia ecco che arriva un neonato e mentre mettere in dubbio il suo ruolo all'interno della casa ecco arrivare Biagio un cane randaggio di cui Lily si innamorerà perdutamente. La bella addormentata nel bosco. Re Stefano ha una bambina Aurora. Ovviamente la nascita della principessa è una questione di stato perché ci troviamo nel Medioevo e al suo battesimo vengono invitati tutti tutto quanto il reame comprese le tre fate madrine Fauna, Flora e Serenella ma non viene invitata Malefica la strega malvagia. Così Malefica offesa da questo non invito decide di scagliare una terribile maledizione sulla piccola neonata. Lei all'età di 16 anni si pungerà con il fuso di un arcolaio e morirà. Per quanto le fate madrine possano addolcire questa maledizione non sono in grado di spezzarla. E così Re Stefano cercando di proteggere la figlia decide di non farne mai sapere che lei è in realtà la principessa e di farla vivere con le sue fatte madrine convinta che siano le sue zie in mezzo alla foresta dove lei sarà protetta da tutte queste brutte cose. Malefica non è stupida sa che c'è una neonata da qualche parte nella foresta e subito si è dà da fare per cercarla perché il suo piano deve assolutamente essere portato a compimento. La carica dei 100 e 1 la giovane stilista e amante della moda Crudelia de Mon una donna estremamente cinica e fastidiosa ha deciso che vuole assolutamente avere una bellissima pelliccia di pelle di dalmata e così rapisce 100 cuccioli di dalmata pronti ad essere usati per creare una pelliccia. Fra questi 100 cuccioli circa 18 sono della sua cara amica e questa cara amica ha ovviamente anche i genitori di questi 18 cuccioli è così che partirà una missione di salvataggio per salvare i cuccioli dalla perfida Crudelia. La spada nella roccia tutti conoscono la leggenda della spada nella roccia la spada che si estratta dalla roccia in cui è incastrata porterà la fortuna all'estrattore di essere il re d'Inghilterra e sappiamo benissimo che estrarla sarà re Artù ma non tutti sanno quello che succederà ad Artù prima di estrarre la spada. Il giovane Artù infatti chiamato Simola vive con Serettore facendo da schiavo lui non può sapere che un giorno diventerà re d'Inghilterra ma per diventare un re saggio ha bisogno di un minimo di istruzione. È così che Merlino e Anacleto i personaggi più divertenti della storia della Disney cercheranno di insegnare qualcosa a questo piccolo cucciolo ma ci troviamo all'inizio dell'alto medioevo e Merlino conosce qualsiasi cosa fino oltre l'anno 2000 e quindi Merlino potrebbe avere alcuni problemi dando a Artù alcune informazioni che nel medioevo ancora non si potevano avere. Il libro della giungla ci troviamo di nuovo all'inizio del Novecento e il piccolo Mowgli viene abbandonato per sbaglio nella giungla viene cresciuto dai lupi ed impara a parlare con gli animali ma nel corso della sua crescita a un certo punto la terribile tigre Sher Khan arriva nella giungla ed è sicura che ci sia un essere umano e quando scopre che un cucciolo d'uomo è tra le mani degli animali decide di volerlo avere per sé per ucciderlo. Sher Khan non può permettere che gli animali della giungla vadano dalla parte dell'uomo e una volta cresciuto potrebbe essere un pericolo per lui. Volendo proteggere il piccolo Mowgli da Sher Khan la pantera baghera deciderà di portare il cucciolo d'uomo nel posto in cui sarebbe sempre dovuto stare in mezzo agli esseri umani ma Sher Khan cercherà di interrompere questo viaggio per riuscire finalmente ad uccidere il cucciolo. Già questo secondo video ha un po' di film un po' più conosciuti diciamo film che tutti hanno visto più o meno nonostante ciò ci sono tante persone che ancora non li hanno visti. Voi quali non avete visto? E quali sono i vostri preferiti?